Una montagna sostenibile e intelligente. E' questo l'ambizioso obiettivo di Cuore delle Alpi, il PITER, cioè il Piano Integrato Territoriale, finanziato nell'ambito dei progetti Alcotra 2014-2020, che è stato presentato martedì 22 gennaio al Palazzo delle Feste di Bardonecchia. Il Piano, che ha un finanziamento di quasi 8 milioni di euro, si propone di rendere la montagna accessibile e attrattiva per nuovi residenti, per attività produttive e per i turisti, ma garantendo insieme un'elevata qualità della vita per chi già vive nelle alte valli e riducendo il rischio che si trasformino in un luogo di passaggio. Quattro, i temi su cui si fonda. Innovazione imprenditoriale dedicata al turismo di montagna, resilienza intesa come prevenzione dei rischi naturali, mobilità sostenibile, inclusione sociale. Siamo qui oggi a Bardonecchia a presentare questo Piano Territoriale Integrato Cuore delle Alpi. E' un Piano Territoriale Integrato molto importante e un PITER Alcotra. Perché è importante per la città metropolitana? La città metropolitana intanto è l'unica città metropolitana che confine con un paese straniero, quindi con la Francia. Qual è il valore aggiunto? Sicuramente il fatto di lavorare in rete. Si parte quindi dai comuni, i piccoli comuni, ma si guarda al globale. Questo sicuramente è un punto di forza di questo progetto che va sostenuto da tutti. Noi crediamo che la qualità della vita possa andare di pari passo con lo sviluppo economico. Quindi qui non si tratta solo di turismo, si tratta anche di pensare all'artigianato, si parla di sicuramente infrastrutture, si parla anche di messa in sicurezza del territorio. Lavoriamo con la Conferenza delle Due Valli, che è un'associazione di territori con cui collaboriamo da più di vent'anni. Questo ci ha facilitati nella presentazione del progetto trasfrontaliero all'Europa. Le ricadute per il nostro territorio, oltre al fatto di lavorare insieme e quindi di conoscersi meglio, sono lo scambio dei metodi di lavoro, l'ottenimento dei finanziamenti, fare dei test da una parte della frontiera sapendo quel che succede dall'altra parte e soprattutto di lavorare insieme. Penso che nell'ambito dei rischi naturali, del traffico, dell'isolamento dei piccoli comuni montani dove i servizi pubblici diminuiscono, i problemi siano gli stessi, in Italia e in Francia. Perché dunque non servirsi dell'esperienza di un piccolo comune montano piemontese, da noi in Francia, nella Maurienne, nel Querasse e nella zona di Brianson?